Si pagano i premi arretrati, si incentivano i futuri turni extra. E' questo il doppio accordo raggiunto che fa tornare il lessereno fra Regione Marche, sindacati, aziende ospedaliere, medici e infermieri in una disputa durata mesi in merito ai premi agli eroi del Covid. Quei medici e quegli infermieri calati anima e corpo nella prima ondata della pandemia, quegli stessi operatori sanitari che si stanno prodigando oggi per attenuare una nuova fase emergenziale delle strutture ospedaliere. Regista dell'accordo è stato l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini che ha siglato un protocollo d'intesa fra le parti, compresi i vertici dirigenziali delle quattro strutture ospedaliere Marche Nord, Torrette, IRCA, ASUR e le sigle sindacali coinvolte. Una conciliazione fra risorse governative e regionali che porta a uno stanziamento di circa 13 milioni di euro basato su due accordi. Innanzitutto vedono finalmente la luce i premi legati alla prima fase del Covid fra marzo e maggio. Esteso dunque alle altre strutture regionali quanto Marche Nord aveva già deciso la scorsa settimana, ovvero una unatantum di 615 euro lordi per le premialità di primavera. Il secondo accordo riguarda presente e futuro della seconda fase pandemica. Al personale infermieristico sanitario che sta già lavorando nei reparti Covid spetteranno infatti 15 euro lordi aggiuntivi per ogni turno, mentre saranno 40 euro in più per il personale medico. Cifre che si alzeranno ad incentivare prestazioni aggiuntive straordinarie a 50 euro lordi in più per ogni turno degli operatori del comparto e 80 euro lordi in più per ogni turno dei medici. Tutto questo mentre le ultime 24 ore hanno denotato una crescita di contagi da Covid-19 nelle Marche che resta a livello di guardia. 357 nuovi casi positivi su 1.229 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi. Fra questi sono 68 i nuovi contagiati nella provincia di Pesaro Urbino, mentre il dato di crescita più sostenuta in un solo giorno spetta alla provincia di Macerata con 115 nuovi casi.